Buon inizio settimana a tutti voi, oggi è lunedì 11 luglio 2016, benvenuti alla rassegna stampa di Fano TV, occhio ai giornali che va in onda tutte le mattine alle 7.30 in diretta e in replica fino alle 8.30, alle 9.10, alle 13.30, tutti i giorni dal lunedì al sabato, rassegna stampa che troverete anche sul sito internet on demand www.occhiolanotizia.it Cominciamo con il santo del giorno, oggi è un santo famosissimo, San Benedetto da Norcia, Abate, un santo che è stato uno dei pochi santi, la cui vita fu scritta da un Papa, quello che sappiamo di lui lo dobbiamo al secondo libro dei dialoghi di San Gregorio Magno. E allora il sole è sorto ai 5.34, tramuterà alle 20.52. Il tempo, vediamo subito le previsioni con l'aiuto della grafica e il sito internet della protezione civile delle Marche che per oggi prevede un cielo sereno poco nuvoloso per debole attività comuniforme sui rilievi nelle ore più calde della giornata. Ci saranno possibilità di isolati piovaschi nelle zone interne nelle ore più calde. Durante la giornata le temperature saliranno mentre ci sarà una diminuzione delle temperature minime e un aumento delle temperature massime durante il giorno. I venti sono di brezza tesa da sud per la giornata di domani, martedì 12 di luglio, vedete sulla costa cielo sereno, con temperature senza variazioni di rilievo. Probabile peggioramento del tempo invece dalla giornata di mercoledì e anche da quella di giovedì, seguito da un ritorno però di condizioni di stabilità. Ieri giornata di sole, giornata di caldo, tantissima gente si è riversata in mare dall'entroterra, dalla costa, dalle regioni centrali che hanno raggiunto la costa adriatica con gli inevitabili disagi alla viabilità, come vedremo tra poco. Ma ieri purtroppo c'è stata una tragedia, una tragedia enorme per una famiglia di Rimini che ha perso il figlio in acqua durante un'immersione. Si trovavano a largo, erano a largo di Pesero. A un certo punto questo ragazzino di soli 16 anni non riemergeva più. Così lo hanno chiamato la capitania di Porto che è uscita e ha portato il giovane sulla banchina ma per lui già non c'era più nulla da fare. Ecco la foto dal resto del Carlino di oggi, la foto di questo ragazzino di 16 anni che è morto dopo un'immersione, una tragedia all'altezza della piattaforma, quindi a largo. Il padre ha tentato di salvarlo però sono stati inutili i soccorsi. Entriamo allora nelle pagine interne dei quotidiani. Abbiamo il Carlino e il Corriere. Ecco qui la pagina 3 del resto del Carlino di Pesero, l'immersione fatale del 16 anni, il padre ha fatto di tutto per salvarlo. La madre era l'ultimo tuffo prima di ripartire inutili i soccorsi. Alla piattaforma a bordo del Gambin Rino Zanzani, campione di pesca riminese, con l'intera famiglia e tutti gli amici. Questi sono i momenti in cui il rientro del Gambin, che è il nome della barca, al porto di Rimini, poi sotto invece la motovedetta della capitania di porto e sotto invece ancora la foto di questo liceale di 16 anni. È stato riportato a galla dal padre, il ragazzo è stato rianimato a lungo, sia in mare che all'ospedale, però purtroppo non c'è stato più nulla da fare. Dolore anche a Rimini, il mare era la sua vita, Mauri studiava al liceo. E questa è la pagina del resto del Carlino, tra poco vedremo anche quella del Corriere Adriatico su questa vicenda. Intanto l'inchiesta, l'inchiesta nelle marche sempre del giornale bolognese, i Vucumpra. I Vucumpra che cambiano stile ma l'invasione non si ferma. A Senigallia ci sono campionari ridotti e buc di merce contraffatta. C'è un'inchiesta, un'inchiesta del giornale, la situazione, tante le proteste per il via vaide, tra gli ombrelloni soprattutto, di venditori abusivi. E poi c'è un focus un po' su tutte le località più importanti della nostra regione. Per esempio a Porto Recanati e a Civitanova vengono multati gli acquirenti di questa merce contraffatta. A Senbenedetto i controlli non bastano, al Lido di Fermo una presenza invadente e a Pesaro si registra invece un aumento del numero di queste persone che per sbarcare il lunario ormai da una vita vendono merce spesso appunto contraffatta. Per fare il pescatore invece, qui rimaniamo sempre sul mare con le storie di mare, per fare il pescatore ci vuole passione ma il fermo pesca, quello che partirà nel mese di agosto, stavolta ci danneggia. Dovevamo stare con il comparto di Cattolica e di Rimini, non con quello di Pescara e di Bari, dicono alcuni appunto dei pescatori. I prezzi sono anche aumentati, segnala il giornale, soprattutto i calamari vanno forte, calano solamente le mazzole. Scusate, aiutateci, Dante Giombini denuncia, troppe limitazioni invece per la pesca a strascico e la Regione, dicono ancora, non capisce che ci sono differenti situazioni nelle marinerie. Il fermo pesca fatto così ci fa solamente dei danni e dicevamo appunto di questo fermo pesca che serve soprattutto almeno così nelle intenzioni per ripopolare il mare dei pesci, chiaramente, per 42 giorni consecutivi dunque non si potrà andare a pescare. Dal 16 agosto niente pesce fresco da Pesero fino a Bari. Anche qui bisogna poi sempre distinguere e quando si fanno queste dichiarazioni pesce fresco, pesce fresco, pesce fresco magari dell'Adriatico, però il pesce fresco potrebbe anche esserci arrivando da altre parti, insomma, chiaramente non sarà magari freschissimissimo, però comunque resta pesce fresco. L'Adriatico, per come è il regolamento, è stato diviso in due. Questa è la pagina sempre del resto del carino. Andiamo adesso sulla pagina di Pesero e Provincia perché c'è un motociclista che l'altra notte si è schiantato contro un'auto e adesso si trova in gravi condizioni. Guardate la motocicletta in quali condizioni è stata portata via dopo l'impatto con la macchina. Un impatto che è avvenuto alle due di notte durante un sorpasso. Lui è un 42enne di Piagge, il piede è maciullato, rischia l'amputazione. Si tratta di Giosuè Morcinelli, originario di Matera ma residente a Piagge, che ha avuto questo incidente all'altezza dell'abitato di Cerbara, vicino Lucrezia. E adesso invece le altre, velocemente, le altre notizie, i titoli con il problema del parcheggio. Vedremo, è un problema che è stato sviscerato sul Corea Adriatico sotto Monte, Trafano e Pesero, anche nella giornata di ieri. Ieri stava una giornata davvero campale per tutti. Sotto Monte sono state fatte delle multe, soprattutto quelle auto e gli automobilisti che hanno parcheggiato sugli spazi riservati agli scooter. L'altra pagina invece di Fano e Urbino, Crespini, Gambini, autoritario. L'ex vice sindaco cacciato sminuisce la tenuta della maggioranza dopo aver allontanato quasi tutti, ormai rappresenta solo se stesso. Gambini è il sindaco di Urbino che vedete in questa fotografia con Francesca Crespini qui al suo fianco che appunto è stata cacciata. Poi la scomparsa San Costanzo di Berto del Mulinar. Gravissimo lutto per la giovane sindaca di San Costanzo Margherita Pedinelli. Ieri mattina si è spento solo i 64 anni a causa di una malattia incurabile, il babbo Alberto. Titolare di un negozio storico del paese dedicato ai prodotti per l'agricoltura, Alberto Pedinelli era conosciutissimo anche oltre i confini sancostanzesi e chiaramente al sindaco facciamo le nostre più sentite condoglianze. E adesso apriamo il Corriere Adriatico. Anche qui in apertura sull'edizione di Pesaro la tragica gita alla piattaforma dove è morto a solo i 16 anni un ragazzino dopo aver fatto un tuffo. Il figlio non riemerge, l'allarme della madre, si getta il padre, tutto inutile, un tuffo. L'immersione, scrive Gianluca Murgia sul nuovo Corriere Adriatico. Poi la tragedia. Dall'altra parte del telefono, in alto mare, una madre disperata che chiede aiuto. Il suo figlio di 16 anni non dà più segni di vita dopo un bagno avvenuto 12 miglia a largo di Pesaro. Come in un incubo, Maurizio Zanzani, riminese, è deceduto ieri pomeriggio al pronto soccorso di Pesaro davanti agli occhi dei genitori. Genitori straziati dal dolore che vedete in questa fotografia pubblicata in prima pagina sul Corriere Adriatico. Ogni tentativo di salvataggio sulla motovedetta e anche sulla banchina purtroppo è stato inutile. Sosta selvaggia, eccola qua. Sono due pagine nella edizione di oggi del Corriere Adriatico. due pagine, quindi una sorta di inchiesta per raccontare quella che poi di fatto è davvero un'emergenza. Perché questa sosta selvaggia tra Fano e Pesaro sulla statale per andare in spiaggia è pericolosa. Il pericolo corre sulla Adriatica, titola il giornale. Una domenica campale sulla strada di nessuno. Niente parcheggi per migliaia di autovetture. Qual è la soluzione? La soluzione potrebbe essere questa. Un servizio di bus navetta con aree di scambio prossime per i veicoli. E questa potrebbe davvero essere la soluzione. E adesso la pagina di Fano invece del Corriere. Ecco il giorno del chiarimento. Massimo Seri, il sindaco di Fano, incontra il consiglio di amministrazione di Aset Holding, un CDA sotto accusa per la questione della diffida legale nei confronti di due consiglieri, tra cui Alberto Santorelli e l'altro Davide Del Vecchio. Difida legale. La maggioranza chiede una retromarcia pubblica entro mercoledì. L'obiettivo è depotenziare la mozione delle minoranze e testa il rischio, testa rischia il posto. Poi sotto nuova viabilità, oggi verifiche con i residenti. C'è un incontro importante a Bellocchi di Fano. Questa sera dopo le proteste su quel cambio di viabilità, quel senso unico che all'inizio, soprattutto all'inizio ha destato rabbia e preoccupazione, anche e soprattutto tra i commercianti che avevano visto sin da subito un calo degli affari. Questa sera alle 20.45 al Circo Lanzia di Bellocchi, nella seconda strada numero 13, il sindaco insieme agli assessori ai lavori pubblici, Christian Fanesi, incontreranno i cittadini residenti della frazione. Asfalti, verde e parchi giochi, la città di Fano si scopre più accogliente, tanti interventi nelle zone che sono quelle un po' più in vista, cioè le zone vetrina, Fanesi risolti i problemi di immagine. Non sono poche le novità che i turisti presenti in questi giorni sulla nostra riviera hanno riscontrato rispetto all'anno scorso, Fano quest'anno è apparsa loro più bella, più curata, anche se molte cose ancora restano da fare. Abbiamo cercato, ha detto Fanesi, di risolvere prima di tutto i problemi che offuscavano l'immagine delle zone di più spiccato valore turistico, vista l'importanza economica del comparto al quale appartengono molte strutture ricettive e commerciali, scrive Massimo Foghetti questa mattina sul quotidiano, appunto il Corriere Adriatico. Poi Animavì show a Pergola, siamo sulla pagina di Fano e Valle del Cesano, presentato il festival dell'animazione con la novità del bronzo dorato, sarà destinato un premio alla carriera per il noto regista Emir Kuskurika. E questa è la fotografia. Poi, sempre dal Corriere Adriatico, la pagina per chiudere ancora di Senigallia, rivolta contro la musica, nel Mirino ci sono anche i rishow, altre proteste sul lungomare Alighieri, così non si può andare avanti. Il pavimento ha vibrato fino alle tre di notte a causa dei decibel troppo forti, troppo alti. E ancora, chiudiamo con questa immagine straziante di questa mamma insieme al papà, disperata, che piange la morte del figlio. È tutto, grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa, vi auguro una buona giornata, vi ricordo questa sera alle 20.30, il telegiornale Occhio alla Notizia. Grazie a tutti.